Sì, ciao amici di Android Blog, siamo qui a Mobile World Congress, abbiamo appena fatto la registrazione e ci hanno dato questo splendido pass. Io, Antonio Vallia e Gabriele Trovato Ciao ragazzi! Con lo sfondo dell'evento di Samsung che tutti aspettiamo per domani, vi chiediamo il benvenuto in questa Barcellona soleggiata, tra le altre cose rende il tempo bellissimo, si sta bene. Vi voglio parlare di quello che è l'evento di oggi di Huawei, anzi Gabriele ci dirà... Huawei oggi speriamo possa presentare il suo nuovo top di camma che crediamo, visto quello che abbiamo visto col P6, possa eseguire quindi qualità di materiali, speriamo però in un'evoluzione, magari qualcosa di un po' più performante rispetto al P6. E poi Gabriele ti ricordo che oggi alle 4 parteciperemo anche allo Showstoppers, Showstoppers dove sai benissimo gli accessori, tutto quello che accompagna la telefonia, la tecnologia e accessori. E allora ci resta che aspettare il grande evento di domani, Lampucket Pipe. Lampucket Pipe e non ci scordiamo comunque anche l'evento di Nokia domani mattina, quindi continuate a seguirci e vi terremo comunque aggiornati. Un saluto a questo punto a tutti i lettori. Ciao ragazzi! Ciao!